Il concetto di stato d'eccezione è stato adoperato per descrivere ciò che abbiamo vissuto fino a qualche settimana fa e che è stato utilizzato da chi lo ha pensato in chiave violentamente antiliberale, ma anche antidialettica. Cioè è quel punto in cui l'ordine giuridico conosce il proprio limite originario, di essere fondato su nulla, diritto inteso come ordine e il fatto che il diritto è posto attraverso la violenza, cioè la violenza politica, e che il diritto conserva dentro di sé questa sua origine, questo suo essere stato posto. Qualche cosa di abbastanza simile era stato detto da Walter Benjamin nel saggio per la critica della violenza, dove anche lì si associava la forma giuridica e la violenza. Un'altra derivazione che nasce dal testo di Benjamin, cioè il concetto di nuda vita. Benjamin sostiene che tutta la struttura giuridico-politica moderna che si vuole come struttura di protezione della vita è invece una struttura che spoglia vita, la rende nuda, la spoglia di ogni qualità e la considera semplicemente qualche cosa di biologico. La nuda vita è il prodotto della sovranità decidente, la sovranità, cioè la violenza che pone il diritto, mentre pone il diritto, trasforma la vita in nuda vita. Bios in Zoe, secondo Agamabe. Durante la fase del lockdown si è detto la sovranità aveva finalmente gettato la maschera e si manifestava nella sua forma più radicale, cioè nel suo produrre nuda vita, il che vuol dire produrre una vita priva di legami, una vita slegata, una vita dissolta, dissoluta, cioè una società fatta di individui tutti alla mercè, come ciascuno come singolo, del potere sovrano. La decisione è questa. La sovranità taglia le apparenze di legame che la società e gli individui in essa avevano creati e riporta gli individui alla condizione moderna originaria, cioè individui che chiedono e non possono essere altro che esseri zoologici dei quali si può disporre o allevandoli, mantenendoli in vita o consegnandoli alla morte in vario modo, consegnandoli al carnefice oppure lasciandoli morire. La società dissolta, slegata, proprio perché il contagio, ciò che mette gli uni a contatto con gli altri, in realtà è l'occasione perché la sovranità tolga i contatti e riporti la società al suo essere sostanzialmente, un deserto costituito di atomi, di granelli, di sabbia. Questa è una posizione antiliberale, cioè secondo i liberali la società non è e non può essere questo, la società non è così infinitamente plastica davanti al potere sovrano. Perché prima del potere ci sono i limiti del potere, perché prima della sovranità ci sono i diritti, perché prima della forza dello Stato c'è la forza della società. Tutto ciò tradotto nella logica giuridica è costituzionalismo versus assolutismo. Qualcuno, nel caso specifico Giorgio Agamben, ha detto bene, abbiamo visto che è stato creato un caso d'eccezione che, come tutti i casi d'eccezione, esprime la verità della norma. Cioè la verità dell'ordinamento liberal democratico viene finalmente alla luce in questa circostanza estrema, il potere che non è ordine ma è essenzialmente disordine. La pandemia è la globalizzazione, cioè qualche cosa che non conosce confini, è stata combattuta attraverso una protezione confinaria, un protezionismo spaziale, attraverso il confinamento. Il processo di dissoluzione della complessità della società è stato posto in essere dal neoliberismo, è il neoliberismo che ha nel proprio DNA la individualizzazione della società. Per dissoluzione intendo il fatto che la società da molto tempo fa fatica a produrre ordine da se stessa, a produrre forme di aggregazione minimamente stabile, i partiti sono scomparsi, i sindacati sono in agonia da tempo. Le forme associative sono effinere sostanzialmente. Il neoliberismo vuole una società di individui, non una società, non dico di ceti, ma una società di raggruppamento. Questa complessità, dalla pandemia e dalla reazione politica alla pandemia, dalla reazione sovrana alla pandemia, questa complessità è stata al tempo stesso rasa al suolo e complicata. È stato un momento in cui si è visto che la società è davvero plastica nelle mani del potere. Ma non c'è la fattispecie del caso d'emergenza, non c'è una fattispecie dello stato d'assedio, non stanno nel nostro ordinamento questi concetti. La cosa più notevole è questa, che in un ordinamento che non prevede esplicitamente il caso d'eccezione, questo si è prodotto senza che si producesse un colpo di stato. Si è prodotto come? È stato chiamato in causa il codice della protezione civile, che è una legge, un insieme di leggi, leggi approvate dal Parlamento. Su questi intervenuti dei decreti, dei decreti legislativi ordinari, il tutto acceso da un propellente che era, è stato, e parte è ancora, una serie di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, che a differenza dei decreti legge non devono passare attraverso il Parlamento, cioè sono atti amministrativi. E poi si va dall'atto amministrativo al decreto legge alla legge, avendosi alle spalle un'interpretazione gerare, che appunto ci dice che ciò che conta di più nel nostro ordinamento è la nuda vita, ciò che viene scartato sono le qualità, e resta soltanto la quantità, cioè il quantum di nuda vita che ciascuno ha. Nella fase in cui era più acuta la pressione sulle strutture ospedaliere, era attraverso la misurazione della nuda vita, la quantità della nuda vita, che veniva deciso chi poteva cedere alle cure salvavita e chi invece viene escluso. Cioè, chi ha poco da vivere non lo mettiamo nemmeno nella macchina che aiuta a respirare. Dire che è normalità è assurdo, evidentemente, non saremmo qui a parlare se fosse normalità. Ma non è stato nemmeno un colpo di Stato. È stata, diciamo così, la autoattivazione della logica sovrana, che per quanto il nostro ordinamento non sia un ordinamento sovranista, è pure contenuta nel nostro ordinamento a livello elementare di volontà di esistenza del popolo che ha posto l'ordinamento assurdo. Il punto è quanto dura questa cosa. Questo caso d'eccezione, che è una conferma di logiche profonde della modernità, logiche che non sempre sono attivate, ma che possono sempre esserlo, quanto dura questo momento di, come dire, vigenza acuta di queste logiche? E qui c'è da interrogarsi. Alcune di queste non piacciono, alcune di queste sono state vissute con sofferenza dal corpo politico, il lockdown. Altre piacciono a diversi poteri. Basta pensare alla traduzione della nuda vita in vita elettronica. Quando sei un mero esistente, privo di legami, ti viene offerta l'opportunità di ricostituire legami attraverso l'elettronica. Questo pare sia piaciuto. Penso che sia un'opportunità che era giusto cogliere nella fase dell'emergenza e penso che sia un'opportunità che è giusto non cogliere, augurandoci noi tutti, di poter tornare ad esistere come persone, non come fascio di elettroni. La riduzione del legame sociale, che è quello che è successo, già in atto e accentuata durante la pandemia in virtù del potere sovrano, questa riduzione del legame sociale è qualche cosa che va considerata come una parentesi o va considerata come una nuova linea di sviluppo della nostra società. Cioè il telelavoro esiste, esisteva anche prima della pandemia, durante la quale invece si è inventato lo smart working, cioè qualche cosa che appunto dovrebbe pur essere gradevole, che è in realtà una forma estrema di dipendenza del soggetto da poteri che egli non controlla in alcun modo. Abbiamo ovunque tele didattica, abbiamo lo smart working, abbiamo le app di controllo. E anche qui il capitalismo di controllo non è stato inventato dalla pandemia. Abbiamo una quantità di libri su di esso scritti negli anni scorsi, non da molti anni, ma insomma negli anni scorsi. Vogliamo andare avanti? Vogliamo andare avanti su questa strada? Cioè vogliamo che la induzione di paura nel corpo sociale porti il corpo sociale continuamente a temere qualche cosa e quindi ad accettare controllo, quindi ad accettare sicurezza, proposte di sicurezza, quindi ad accettare forme di subordinazione sempre più strette in nome della paura della seconda ondata, della terza ondata. Ecco, queste sono le domande aperte. Dunque, caso d'eccezione sì, c'è stato. È codificato? No. È un colpo di Stato? No. È la logica della sovranità che si afferma, che effetti produce, l'abbiamo detto. Si riesce a chiudere, a mettere tra parentesi il caso d'eccezione o ce lo otteniamo come nuova normalità? Grazie.